Se lo stesso giorno fai venire persone con la prenotazione, persone libere, come minimo dovevi fare due canali. Non puoi tenere persone cargiver, persone con problemi fermi tre ore e studenti che possono andare al mare tranquillamente nella stessa fila? Cioè ci arriverebbe anche un bambino delle elementari. Suggerimento? Lunghe code questa mattina nell'area del Codma di Rosciano a Fano dove oltre agli appuntamenti programmati già da tempo si sono aggiunti vaccini ai maturandi. Oggi infatti sono partiti nelle marche anche i Vax Days per gli studenti delle quinte superiori chiamati a sostenere gli esami di maturità. Cinque giorni di vaccinazione fino a domenica 6 giugno senza prenotazione nei punti vaccinali individuati dalla regione. Un'occasione che in tanti non si sono fatti sfuggire ma che ha provocato rallentamenti e la rabbia di qualche cittadino. Siamo arrivati qui alle 9 e un quarto e l'appuntamento per lei dalle 9 e mezzo alle 10 era previsto e purtroppo c'è un sacco di gente e siamo in fila ormai da due ore. Sembra che hanno convocato anche tanti i maturandi e hanno la precedenza su quelli che sono prenotati con l'appuntamento. Non so perché allora era il caso di non prendere troppi appuntamenti. È una situazione che in maniera preventiva non si può arrivare con un appuntamento e ti dicono al primo cancello gli appuntamenti sono decaduti e andate in fila. Io le faccio vedere, sono qui ad accompagnare mio fratello e noi abbiamo un codice a barre. Non è una tecnologia primitiva. Riceviamo multe col codice a barre. Se passiamo per strada con l'autovelox veniamo sanzionati e non passa nulla. Non riescono in 15 giorni ad avvisarci che il giorno che faremo il vaccino ci dobbiamo presentare qui con l'ombrellone, le scorte alimentari e da bere perché poi magari il bar fa anche un suo orario. Per me va bene, io resisto anche sotto nel deserto ma qualcuno che è in condizioni di salute e sappiamo da dove veniamo lo deve tenere in considerazione. Quindi non è che siamo arrabbiati, siamo semplicemente adirati perché poi ci dobbiamo scontrare proprio con quelli che sono in prima linea con noi e gli operatori sanitari che sono qui. D'altra parte invece c'erano i ragazzi, anche loro in fila, che in questi giorni devono presentarsi in base all'ordine alfabetico dei cognomi dalle 8 alle 18 e 30. I maturandi avevano quest'occasione quindi l'abbiamo colta al balzo. Ci hanno mandato un po' di accidenti noi maturandi perché hanno detto che è colpa nostra se stanno facendo così tanto ritardo perché insomma ci siamo aggiunti così all'ultimo quindi non era programmato tutto questo casino. Quale vaccino vi faranno? In teoria il Pfizer, poi dopo non lo sappiamo. Cioè hanno scritto che dobbiamo fare il Pfizer. Siete contenti di fare il vaccino? Sì, sì dai, almeno siamo un po' più tranquilli, dai. Il Pfizer. Se fosse stato un altro tipo lo avrebbe fatto lo stesso? Sì, l'avrei fatto lo stesso senza alcun problema. Anche per fare la maturità in presenza e anche per prenderci un po' di libertà che comunque in questo anno ci ha mancato. Ho aspettato un paio d'ore e ci sono invece persone che hanno aspettato molto di più quindi sono stata molto fortunata. Ho un po' di confusione durante le corsie però poi si sono ripresi diciamo e è lato tutto bene. Inviterebbe anche i suoi compagni di classe a venire? Sì, lo farei assolutamente. Io penso che sia una grande opportunità quindi bisogna coglierla subito. Beh sì dai, chi vuole farlo lo fa, chi no no. Anche per tranquillizzare meglio i professori magari. Oppure anche per essere certi che uno farà l'esame. Quale vaccino vi faranno? Per me è indifferente, basta che lo faccio perché è importante farlo. Sì, sì, accetto tutto, sì è indifferente. Assolutamente sì. Lo faranno tutti, sì, 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 nessuno è contro. È un'opportunità che comunque ci è stata data e comunque dobbiamo cogliere perché adesso questa è la priorità, la situazione è questa e bisogna farlo. Abbiamo aspettato abbastanza però ne è valsa la pena. Abbiamo aspettato abbastanza però ne è valsa la pena.